Ciao Emilio, come stai? Ciao, bene, grazie. Come ti stai trovando all'evento? Abbastanza bene, per me sono cose abbastanza nuove, comunque la spiegazione è efficace e quindi direi bene. Ci parli un po' di idee? Beh, io ho una certa età e si vede, mi sono avvicinato a rivoluzioni così per passare un po' di tempo, ovviamente essendo pensionato tempo ne ho, non ho l'aspirazione di diventare milionario ovviamente, mi basta un po' così di soddisfazione e guadagnarmi qualche weekend, qualche periodo di vacanza così, quindi è un po' un hobby più che altro insomma. L'evento ha rispecchiato un po' le tue aspettative? Direi di sì fino ad ora e spero continui anche se appunto sono nuovo in questa materia, quindi ho ancora qualche perplessità, qualche aspetto non chiarissimo, però penso di chiarirlo chiaramente. Quindi lo consiglieresti ai tuoi conoscenti? Ma sicuramente sì. Ti ringraziamo Emilio. Prego.